Stamattina un riconoscimento per Marina Pellegrino? È un riconoscimento che ovviamente la città vietrese è ben lieta di dare perché Marina ha avuto il riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica il premio Sinopoli quindi è un vero e proprio orgoglio vietrese, un grande orgoglio vietrese. Marina ha già fatto tanto negli anni, qualche anno fa stava a New York per rappresentare l'Italia adesso il riconoscimento del Presidente della Repubblica, noi come Comune di Vietri ma come cittadinanza di Vietri non potevamo fare almeno di ringraziare per quello che fa in effetti il nostro è un riconoscimento quest'oggi però è soprattutto un ringraziamento per Marina, per il suo impegno, per quello che sta producendo ma soprattutto perché lei è un'ambasciatrice del nome di Vietri sul mare e credo che col suo esempio tanti giovani vietresi potranno continuare su questa strada e continuare a fare la musica. Vietri oltre a città della ceramica anche città della musica e noi dobbiamo incrementare e incentivare questi eventi e queste persone che fanno così tanto per noi. Sono qui oggi al Comune di Vietri sul mare per festeggiare questo riconoscimento molto importante che ho ricevuto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme al mio quartetto di musica da camera che è un quartetto di trio d'archi con pianoforte composto da Vincenzo Meriani al violino Francesco Venga alla viola, Matteo Parisi al violoncello e da me al pianoforte. È stato un vero onore ricevere questo premio a seguito di un'assegnazione di questa borsa di studio da parte dell'Accademia di Santa Cecilia ovvero la nostra accademia che ci ha formati come quartetto e che ci ha anche uniti. Quindi è stato un doppio riconoscimento sia perché abbiamo capito tutti e quattro insieme di aver giocato una carta vincente e quindi unire le nostre personalità musicali è stato quindi un bene e che quindi ci ha portato a questo risultato che è stato un vero onore. Siamo stati premiati al Palazzo del Quirinale lo scorso 5 giugno dove c'erano delle personalità incredibili anche della musica come Ennio Muricone e il direttore d'orchestra Antonio Pappano anche loro personalità importantissime di Santa Cecilia quindi è stato davvero emozionante e ancora siamo molto molto felici di aver scelto di suonare insieme.